Intanto ce ne andiamo un momento a Napoli, a San Domenico Maggiore con Antonella Venti. Grazie. Eccomi Lucia, come dici tu, proprio a San Domenico Maggiore. E mi piace fare un legame con quello che dicevate in studio, con quella fede enorme di Padre Pio, perché alle mie spalle c'è proprio il quadro della Madonna di Pompei. Lo dicevamo stamattina alle otto e mezza, ma per chi si fosse collegato solo ora, è proprio da qui che il 7 ottobre 1855 parte quel quadro che vedete alle mie spalle per arrivare poi a quello che diventerà il santuario di Pompei. Una chiesa, questa di San Domenico Maggiore, quindi che è importantissima da tanti punti di vista, non solo quello della Madonna di Pompei, ma perché, come dicevi tu, noi oggi celebriamo San Tommaso d'Aquino. Un santo enorme, perché ci ha insegnato quanto la fede non sia solo un salto, ma anche una riflessione quotidiana verso Cristo. E quindi ci rivediamo tra pochissimo, ci sta aspettando proprio il priore, con cui parleremo del periodo che San Tommaso vive qui. Pensate che questa chiesa ancora non c'era, eppure lui si è innamorato dell'ordine domenicano. Ci rivediamo tra pochissimo, vi porteremo proprio anche davanti al crocifisso che a lui parlò. Per il momento a te. Antonella, tra l'altro, è una delle chiese più stupefacenti di Napoli, anche per bellezza. E allora Antonella, davanti alle spoglie del santo, e noi qui, questo viaggio, la guida speciale, è Padre Francesco Lavecchia. Padre Francesco. Tu lo sai che... Ah, guardate che oggi è un puntatone. Oggi è festa grande. Sì. Festa grande perché San Tommaso è una di quelle presenze, dottore della chiesa, che però mettono d'accordo i più razionalisti e quelli che invece hanno una fede di cuore. come si incontra nella vita e nella storia di questo santo questi due elementi. Potrei dire questo, carissima Lucia, che tutta la vita, o molta parte della vita degli uomini, si risolve in una questione di incontro e di relazione. Verissimo. Alle volte, anche quando non lo sappiamo, un esempio pratico per assicurare il pubblico qui presente è quella a casa. Non ci siamo messi d'accordo sui colori da usare oggi noi due. Eppure siamo bianco e nero tutti e due, vedi? Abbiamo messo insieme mente e cuore. E pochi sanno meglio. Credo che ormai abbiano capito come siamo fatti. Pochi possono immaginare che non ci si metta mai d'accordo che esiste questo lasciarsi andare, lasciarsi guidare. San Tommaso è uno di quelle menti che si sono fatte guidare dal buon Dio o è uno di quelli che pensavano di arrivare ad una destinazione e poi Dio li ha portati altrove? Lui si è lasciato guidare da Dio, ma cosciente della sua umanità, della sua unica carta da gioco che aveva lui, come l'abbiamo noi. Mi racconti un po' la sua storia umana. Ma vediamo il profilo un po' umano di Tommaso. Tommaso, anche noi, i cosiddetti addetti ai lavori, spesso lo descriviamo come il grande teologo che è stato, il grande pensatore, forse rendendolo anche un po' pesante, e soprattutto quando lo si offre ai nostri studenti, a coloro che sono lungo i percorsi accademici, alla parola già San Tommaso, la summa teologica, e allora ci si spaventa. E molto spesso nel presentarlo così rischiamo di disumanizzarlo. Invece la storia di Tommaso, che addirittura i biografi rappresentano che era un uomo di poche parole, ma aveva un volto giocondo e sempre accogliente, sorridente, quindi segno di una grande serenità. E la sua vocazione nasce ovviamente, nulla per caso, è sempre Dio che guida le cose, in un contesto, innanzitutto era molto giovane, quando la famiglia da Cassino lo manda per l'appunto a Napoli per iniziare i suoi studi teologici, ma la famiglia pensava di farlo diventare monaco a Monte Cassino, per un certo futuro importante, anche di gerarchia, di una carriera ecclesiale, probabilmente, visto che la famiglia d'Aquino era una famiglia nobile e riguardava quel territorio, appunto Cassino, Rocca Secca e via dicendo Aquino, sperava probabilmente di un giorno di vederlo a Bate, quindi gestore di una realtà storica importante. Ma i disegni di Dio erano diversi. Il giovane Tommaso arriva a Napoli e proprio lì, vicino a questa nascente comunità di primi frati domenicani, Domenico era morto da poco, quindi l'ordine era i suoi primi movimenti, conosce i frati, si innamora di quest'ordine dei mendicanti, della sua originalità, della sua novità e soprattutto l'idea che l'ordine dominicano usa lo studio per conoscere Dio e parlare alla gente di Dio. Pare Francesco, io immagino casa, nobili, destinata a una carriera altissima che va a mendicare. Già la prima frattura con la famiglia e le prime prove della vita vera. Ma una frattura molto grossa, perché nel momento in cui la famiglia viene a sapere dell'intenzione di Tommaso e qui succede un qualcosa che oggi, non so, le fiction moderne farebbero subito una puntata simpaticissima. Perché nel momento in cui lui diventa novizio, quindi vivendo la prima fase a San Domenico Maggiore, a Napoli, questa è della sua storia, cosa succede? Che il generale del tempo, intuendo che la famiglia avrebbe fatto di tutto per portarlo via, lo porta con sé, probabilmente l'intenzione era di andare sino a Parigi, dove c'era l'università. Ma lungo la strada, Tommaso viene bloccato dai suoi fratelli, che erano stati mandati dalla sua mamma potente, che era contrarissima a tutto questo. E viene tenuto prigioniero, ovviamente in famiglia, con tutti gli agi, con tutte le possibilità, a Monte San Giovanni Campano, dove la famiglia aveva un castello. E lì vivrà per un certo tempo, con la speranza che aveva la famiglia di farlo desistere dalla situazione. Ma chi ha vinto alla fine? Ha vinto lui, ha vinto Dio. Ha vinto Dio. Ha vinto Dio. E tra l'altro questa immagine bellissima di una madre che è pentita, poi gli chiede scusa, penso che sia una delle cose più belle che si possano vedere. Allora, fermiamoci alla sosta napoletana. Torniamo in quella casa, San Domenico Maggiore, dove è intatto l'amore per il loro santo. E allora, Antonella, pensaci tu. Vediamo se sei pronta, eccola. Guardate che incanto di chiesa. Sì, Lucia, siamo prontissimi. E proprio, ecco, perché tu parlavi dell'incanto di questa chiesa, ci siamo spostati nella navata centrale per farvi vedere la bellezza. Ci ha raggiunto il priore del convento di San Domenico Maggiore, Francesco Ricci. Buongiorno. Buongiorno. Noi dicevamo una basilica bellissima, ma che in realtà, quando San Domenico, ne parlavano anche in studio, era qui, non esisteva. Lui si innamora di una piccolissima comunità. Sì. Quando San Tommaso d'Aquino giunse a Napoli, Benedettino, da Monte Cassino, aveva appena 19 anni, ma già funzionava l'Università di Napoli. Per questo fu inviato dai suoi monaci qui a Napoli. Giunto, come ho detto, a 19 anni, non trovò nulla di quello che noi stiamo vedendo adesso, ma trovò una piccola comunità, una piccola comunità di tre frati, che avevano avuto l'incarico di piantare l'ordine qui a Napoli e pensavano alla costruzione sia del convento che della chiesa. Quindi Tommaso d'Aquino, quando giunse, trovò questa chiesa che era un cantiere. Forse proprio perché trovò questa chiesa cantiere che pensò che la teologia dovesse essere un cantiere di vita, di pensiero e lui mise mano a quest'opera. Fra Francesco in studio ci raccontava poi invece del momento in cui viene spostato da qui, dalla famiglia e tutte le peripezie. Lui però ritornerà qui. Ritornerà qui negli anni successivi proprio perché, per quello che dicevi tu, la fede è un cantiere e lui fonda la facoltà di teologia qui a Napoli. Sì, Santo Maso ritornò la seconda volta intorno alla fine del 1240 proprio per fondare la facoltà di teologia nell'Università di Napoli chiamato dal re Carlo D'Angio e ritornò ancora una volta alla fine dei suoi anni per completare un'opera che non è mai stata completata che si è fermata quella della sua summa teologica ma in questa chiesa cantiere lui predicò per due anni di seguito e insegnò nell'aula nell'aula di teologia proprio che è davanti al nostro sagrato ecco della presenza. Noi in realtà nelle immagini che stiamo vedendo stiamo vedendo anche una macchina delle 40 ore che è stata messa poi a posteriori dove invece prima era custodito il crocifisso Ligno che poi apparve a Santo Maso dove Lucia tra poco noi ci sposteremo perché ci spostiamo all'interno della cella dove ha vissuto Santo Maso Fra Francesco però prima di chiudere questo collegamento le persone che vengono qui a San Domenico Maggiore conoscono Santo Maso e la sua importanza? Le persone che vengono qui credono a volte di trovare anche il corpo di Tommaso ma qui a San Domenico Maggiore si trova soltanto l'esperienza l'esperienza di vita e l'esperienza di santità che ci ha lasciato Santo Maso d'Aquino noi sappiamo che il corpo di San Dommaso è custodito nella chiesa di Domenicani di Tolosa che poi in realtà è un po' il riassunto della sua teologia Lucia mi permetto alzando le mani che è appunto l'anima e tutto il corpo quindi ci dà un po' lo spunto di quella che è la teologia di Santo Maso noi Lucia da adesso ti salutiamo dalla chiesa di San Domenico e ci spostiamo all'interno del corridoio proprio di Santo Maso d'Aquino sperando di fare in tempo e di avere il segnale per fare il prossimo collegamento proprio all'interno della cella dove è custodito quel crocifisso miracoloso e la reliquia di Santo Maso noi ci spostiamo fra Francesco e tra poco ti chiediamo la linea allora grazie a padre Francesco grazie Antonella perché ci hai fatto assaggiare l'incanto di una delle chiese più belle di Napoli devo dire la verità ma insomma tutto pieno di fede poi padre Francesco qui in studio io adesso sto per lanciarti una sfida ti do anche il tempo di riflettere proviamoci tu mi devi riassumere in tre minuti la summa teologica di Santo Maso d'Aquino sei pronto? qua te giochi la carriera da predicatore praticamente si ce ne andiamo un minuto in pubblicità non ti muovere nel giorno della memoria liturgica di Santo Maso d'Aquino abbiamo lanciato una sfida quella di entrare nel mondo di questo cercatore di Dio che ha messo insieme fede e ragione padre Francesco la vecchia è una sfida non da poco ha dedicato tutta la sua vita alla compilazione della summa teologica noi pensiamo di essere spavaldi e di risolverla in tre minuti ma invece questo forse è il senso di questo appuntamento odierno dove arriva Santo Maso d'Aquino e perché quella eredità è quella che consegna ancora la modernità nel rispondere alla tua domanda nonché alla tua sfida Lucia faccio una premessa quando lui prova a parlare di Dio Tommaso dice che Dio ha degli attributi delle caratteristiche la prima di questa è la semplicità quando noi oggi pensiamo alla semplicità la pensiamo come sinonimo della banalità di ciò che conta poco diciamo è una cosa semplice di poco valore no? la semplicità è come essenzialità come capacità di togliere tutti i fronzoli possibili e di andare all'essenziale questo è il modo con cui lui fa il teologo e allora la summa la divide in tre parti molto semplice la prima parla di Dio la seconda dell'uomo in relazione di Dio la terza di Cristo e della sua salvezza che è venuto con il mistero dell'incarnazione in tutto questo c'è la sintesi della fede cattolica come fa a risolvere l'eterno dissidio o almeno presunto dissidio tra fede e ragione come mette insieme tutte e due le cose Tommaso ovviamente è sempre un uomo di quel tempo di quel secolo e quindi non può giustamente dare quelle risposte che magari la nostra curiosità di allora come oggi potrebbe avere soprattutto dal punto di vista scientifico ma un teologo non è uno scienziato è un teologo però fa il teologo secondo i criteri della scienza con la razionalità anzi Tommaso dice una cosa importante quando la ragione pensa di non avvalersi della fede sbaglia e quando la fede vorrebbe fare a meno della ragione non è una vera fede le due cose come se fossero i due binari che camminano in maniera parallelo hanno bisogno l'uno dell'altro per far camminare questa ricerca dell'uomo nei confronti di Dio quindi non c'è un elemento e Tommaso restituisce giustamente la giusta indipendenza alla ragione quanto alla fede alla filosofia quanto alla teologia ma l'una ha bisogno dell'altra devono essere necessariamente raccordate d'altronde Giovanni Paolo II ci regalerà qualche anno fa di destrazio dove proprio precisamente lui dice Tommaso rimane il grande modello di come dialogare anche perché questi due poli di dialogo non sono lontani o esterni all'uomo li abbiamo dentro senti padre Francesco il Dio a cui si riferisce è un Dio che innanzitutto è il dono della semplicità gli è padre gli è fratello qual è il rapporto tra Dio e il giovane Tommaso e poi il grande il grande filosofo il grande teologo direi quasi al contrario perché Tommaso che ha rispolverato e riscoperto il valore della filosofia di Aristotele è uno che parte sempre dal basso dalla constatazione allora fammi un esempio molto semplice Tommaso fondamentalmente sa di essere amato e sapendo di essere amato da Dio capisce ogni giorno quest'amore e prova a viverlo e a condividerlo un esempio ancora più concreto quando nella seconda parte della Somma lui parla appunto dell'uomo in tutte le sue sfaccettature e parla delle cosiddette virtù teologali quelle che la nostra dottrina cattolica denuncia come fede speranza e carità ovviamente lo fa con il suo linguaggio ma nel suo linguaggio sempre scientifico netto schietto concreto ecco potremmo noi tradurlo oggi e giovani forse ci capirebbero ancora di più con il loro linguaggio come definisce fondamentalmente queste tre virtù teologali cioè che ci dà Dio per questo teologali come potremmo definirle come se il Signore avresse immesso dei programmi dentro di noi per fare cosa? la fede per permetterci di riconoscerlo la speranza è una nostra predisposizione a cercarlo la carità per sentirci amati e poi riamarlo queste sono le virtù teologali sfida vinta padre Francesco io un giorno voglio venire a sentire la tua lezione se me lo permetterai puoi entrare a fare una lezione ad ascoltare una lezione hai già un posto in prima fila no no l'ultima fila l'ultima fila perché non sono sicura di poterti di poter arrivare a tanta grandezza questa è un'altra dei doni che mette il buon Dio vogliamo tornare nella casa napoletana di Sant'Ommaso d'Aquino Antonella se ci sei vediamo ecco la sì Lucia ci siamo spostati all'interno del corridoio di Sant'Ommaso si chiama proprio così perché all'interno di questo corridoio c'è la cella di Sant'Ommaso che è quella in cui stiamo entrando una cella molto piccola ma che custodisce un tesoro enorme che è questa tavola a linea padre Francesco una tavola che a un certo punto parlò a Sant'Ommaso certo questa icona la trovarono i domenicani quando ricevettero la chiesa di San Arcangelo a Morfisa che fino al 1231 era la chiesa dei basiliani dei benedettini ecco dei monaci benedettini poi i domenicani ricevettero questa chiesa come loro sede al loro arrivo a Napoli appunto nel 1231 Sant'Ommaso è stato qui in tre in tre in tre momenti e nell'ultimo momento della sua vita dal 1272 al 1272 1274 mentre era in preghiera nella cappella di San Nicola dove era custodita questa icona questo crocifisso gli ha parlato a Sant'Ommaso perché aveva dei dubbi su quello che aveva scritto su quello che aveva insegnato e questo crocifisso gli disse hai parlato bene di me Sant'Ommaso cosa desideri e Sant'Ommaso gli rispose che desiderava soltanto lui desiderava soltanto vivere con lui in realtà questo è un luogo che viene molto visitato dalle persone che vengono qui alla chiesa di San Domenico Maggiore forse un po' per la parte artistica ma qualcuno riesce realmente a mettersi in preghiera davanti a questa tavola? Soprattutto molti vengono proprio per visitare l'icona che ha che ha parlato a Sant'Ommaso d'Aquino e per visitare il luogo dove Sant'Ommaso dove Sant'Ommaso ha vissuto infatti qui in questa piccola cella nel locale Attigo troviamo anche la reliquia che viene custodita qui a San Domenico Maggiore dal 1374 dopo che il capitolo generale dei Domenicani consegnò alla chiesa di San Domenico Maggiore che aveva dato era stata la culla della vocazione di Sant'Ommaso consegnò questo omero che voi potete potete vedere che stiamo vedendo nelle immagini l'ultima domanda stiamo per chiudere alle persone che vengono qui il messaggio che Sant'Ommaso lascia qual è? il messaggio che Sant'Ommaso lascia è il cercare il cercare Dio con l'intelligenza il cercare Dio con l'intelligenza della fede ecco noi con questo messaggio che è ovviamente quello che dovremmo fare nostro tutti i giorni cercare incessantemente Dio Lucia da Napoli dalla chiesa di San Domenico Maggiore ti salutiamo ringraziamo Padre Francesco di averci accolto e soprattutto con questo bellissimo crocifisso che ci accompagnerà nella giornata buona giornata da Napoli grazie Padre Francesco grazie Antonella fate una sosta in questa chiesa perché davvero è un punto di incontro anche tra credenti e non credenti Padre Francesco perché forse la sfida è proprio quella l'intelligenza della fede mettere insieme questi due elementi e non necessariamente contrapporli come si arriva a Dio San Tommaso ci è arrivato ponendosi delle domande e partendo da una carriera predestinata invertendo la rotta e lasciandosi abbandonare l'uomo d'oggi con San Tommaso cosa ci fa? l'uomo d'oggi può imparare la disponibilità noi siamo nel nostro tempo è un tempo che si parla addosso chattiamo prima noi postiamo prima noi facciamo tutto prima noi senza guardare il contesto senza guardare e porci sulla lunghezza d'onda anche dell'altro e del contesto che viviamo ecco Tommaso è proprio il contrario che non è un'opposizione a un altro stile si tratta di riscoprire la vera identità dell'uomo e quindi un'identità razionale relazionale soprattutto di relazione perché nessuno di noi nasce per stare da solo abbiamo bisogno gli uni degli altri non è vana poesia o una teologia così del cuore come se il cuore camminasse su un altro binario a differenza della mente mentre il cuore stanno insieme sono due realtà che hanno bisogno di integrarsi perché la persona è una i nostri gesti le nostre parole le nostre azioni nel momento in cui noi le manifestiamo manifestano la sintesi di questo lavoro di questo cammino e credo che ancora una volta il ritornello che accompagna tutta la scrittura dove Dio invita il suo popolo ad ascoltare cioè maesraele ascoltare questo è quello che noi oggi dovremmo recuperare piuttosto che parlare pensare diceva all'inizio Lucia quando noi alle volte rischiamo di disumanizzare un uomo così semplice così profondamente pieno di Dio Tommaso davanti prima di una lezione o quando soprattutto aveva ecco dei dubbi o delle cose sai come pregava poggiava la testa sul tabernacolo perché sapeva che lì c'è Gesù Eucharistia per dire aiutami tu si metteva in ascolto quindi ecco la grandezza di quest'uomo che nonostante la sua la sua intelligenza il suo coziente certamente le tante opere che lui ha scritto detto e pensato ma poi soprattutto di lui c'è una cosa molto bella che spesso dimentichiamo lui ha predicato anche napoletano perché arrivasse tutto a tutti un vero teologo non può non essere predicatore dimmi solo una cosa Dio abbiamo ancora bisogno di spiegarlo secondo te rispondimi se o no o meglio abbiamo bisogno di cercarlo perché mentre lo cerchiamo lo spieghiamo Pare Francesco l'Avecchia mi prenoto per una ti voglio ascoltare disconnessiamoci da noi stessi e invece veniamo incontro a queste parole che si fanno parola Monica di Loreto tu ci metti la tua sapienza il tuo cuore e la scienza dei tuoi ospiti a spiegarci come possiamo vivere meglio il mio medico Pare Francesco Dio ti benedito grazie grazie